Anche Napoli partecipa alla giornata nazionale Illumina il presente, Illumina il futuro contro la povertà educativa promossa da Under Radio, la web radio Under 18 contro le discriminazioni di Save the Children. Un'iniziativa che ha coinvolto circa 200 studenti, aperta questa mattina con un flash mob nel centro della città e conclusa nel pomeriggio all'istituto Adelaide Ristori di Forcella dove sono state organizzate diverse attività laboratoriali. Obiettivo dell'evento che rientra nella campagna 7 giorni per il futuro di Save the Children è sensibilizzare i cittadini sull'importanza delle risorse educative per la crescita dei più piccoli. La campagna è una campagna che appunto vuole promuovere azioni di sensibilizzazione e attività progettuali concrete per dare delle opportunità di futuro migliore a tutti questi ragazzi. In Italia più di un milione di minori vive in condizioni di povertà assoluta, senza opportunità educative e formative e la campagna insieme alla Sicilia detiene su questo fronte un triste primato. Il tema dell'evento di quest'anno è la partecipazione attiva come strumento di contrasto alla discriminazione e alla povertà educativa. Se ne è discusso oggi presso il comprensivo di Forcella che promuove momenti di integrazione in un quartiere difficile ed ospita da maggio 2015 la redazione cittadina del progetto Under Radio. Grazie. 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 Grazie.